Se prendiamo una catena e un anello e proviamo a fare cadere quest'anello in basso, ovviamente lasciandolo libero per migliaia di volte cadrà giù dritto e non succede nulla. Ma potrebbe anche succedere qualcosa di strano. Vedete, in questo caso l'anello non è caduto. Ovviamente dietro c'è un piccolo trucco che non vi svelo. Ma quello che volevo dirvi è che con la sicurezza succede esattamente questo. Per migliaia di volte non succede nulla e quell'anello cade giù liberamente, quindi non succede proprio niente. Ma la volta che succede è una tragedia.